Eccomi Anastasia, finalmente io sono arrivata a Roma, non ho anche il tempo di arrivare che subito il mio daccio mi venuto a prendere. Ora sono con questa belligia e andrò nella mia nuova casa. Oh! 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 Quanto ci vuole ad aprire la porta a una doncella così magra e bella? Però che bello, finalmente qui a Roma vedrò tantissime cose belle, la fontana di Trevi, il Colosseo. Ah, a proposito di Colosseo, dov'è la mia stanza con vista Colosseo? Andiamo, questa è la luce, questa è la luce, questo schifo ti sembra una luce? No! Anastasia! Canta! Ucina! Canta! Ucina! Canta! Ucina! Canta! Ucina! Anastasia, cos'hai fatto? Anastasia, questa è tutta colpa tua, io già lo sapevo, già lo sapevo. Va bene, è il momento, adesso mi darò le faccende domestiche. E, bella, sono ci vedremo alla prossima, puntata. Sì, bella, sono ci vediamo alla prossima, puntata.